Il bilancio 2018 della BCC di Aquara è stato approvato all'unanimità. Durante l'Assemblea dei Soci per il 41esimo esercizio finanziario, evento che si è svolto a Pestum al Savoy Beach Hotel, il direttore Antonio Marino ha sottolineato i passi da gigante fatti dalla banca in 41 anni di attività, ricordando la sua presenza sin dalla prima assemblea della banca. Ha così ripercorso brevemente la soddisfazione di aver fatto crescere, insieme ai dipendenti e ai soci, un credito cooperativo che dà solo risultati positivi. La banca, in sintesi, nel dépliant realizzato dalla BCC di Aquara, sono stati sintetizzati i dati che compongono un quadro più che positivo della BCC di Aquara al 2018. Un sostanziale aumento lo hanno avuto gli impieghi clienti, più 19,49%. Sono infatti saliti a 209,821,197 milioni rispetto ai 175,598,860 del 2017. La raccolta diretta è aumentata del più 6,69% rispetto al 2017, salita nel 2018 a 269,387,763 milioni di euro a fronte dei 252,488,65 milioni dell'anno precedente. Il numero dei conti correnti è aumentato del più 18,82% da 13.504 a 16.045, aumentato anche il numero dei clienti del più 6,58% arrivati a 30.157 a fronte dei 28.295 del 2017. A sostegno dei dati positivi e fiduciosi anche per un ampliamento delle competenze territoriali. Sui comuni di Altavilla Silentina e Sicignano degli Alburni è iniziata una campagna di iscrizione di nuovi soci. Durante la giornata sono stati assegnati i bonus bebè e i premi di laurea 2018 per i soci e i figli dei soci della BCC di Aquara. Prossimi passi l'apertura di altre due filiali, quella di Agropoli e di Pellezzano che accrescono la presenza della BCC sul territorio provinciale. Il bilancio 2018 della BCC Aquara è stato approvato all'unanimità dai numerosi soci intervenuti. È stato inoltre eletto all'unanimità il nuovo consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e il collegio dei probiviri.